Siamo felici perché raggiungere salvezza così 10 giorni da fine è veramente un ottimo risultato con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest'anno, penso superiore nettamente all'anno scorso dove comunque cosa davano abbastanza tranquilla, quest'anno è stato veramente difficile. Affrontiamo Lazio che arriva da tre vittorie consecutive, che sta bene, che è ancora lotta per Champions che vogliono arrivarci, sappiamo che sarà dura però ho visto la squadra giusta, penso che siamo motivati e vogliamo fare una bella prestazione. Penso che per lunghi tratti è stato un elas di applicazione, di forza mentale, di rinegare passato per ottenere risultato che non era facile, specialmente con il vecchio, perché tu raggiungi un livello di gioco e vuoi continuare su quella strada, conosci certi meccanismi e dire magari a Veloso, a Faraoni no, dovete fare tre passi indietro, cioè si gioca più semplice, non facciamo questo perché ancora nuovi non hanno metabolizzato le cose, non è stato facile, però quella partita là, come dici te bene è stato un esempio della volontà, di applicazione, di fare di tutto possibile per ottenere il risultato. ha significato che sono stati due grandi risultati, c'è grande soddisfazione per come sono arrivati per il gioco espresso, per la crescita dei giocatori, del gruppo, rimane questo per me, un anno scorso era in un modo quest'anno secondo me in un altro modo, però sempre ci ha fatto bene, ci recuperiamo tanti, in senso il Gunter non dall'inizio però è in disposizione, c'è lì marca un po' di fiatto però sta bene, Kalinic meglio questa settimana, Cole c'è, Ceccherini ha avuto un problema però oggi si è allenato regolarmente, anche Magnani è in buone condizioni, c'è vuol dire ci rimangono fuori pochi, Favilli, Viera ancora, c'è questi, invece Miguel bene a livello di gioco penso che interpreta bene tante situazioni che ci fa giocare bene, anche fase difensiva fa bene e lui dall'inizio lui ha cambiato molto questa società, ma non lo so, poi si parlerà, adesso voglio vivere presente e poi si parlerà di futuro sicuramente, si vedranno tutte le cose, fate bene, fate male, chi vuole una parte o altra si valuta, ma a prescindere cioè Miguel è giocatore vero, tutti pensavano che fosse finito ma invece sta giocando a buonissimi livelli a prescindere di tutte le cose, cioè è giocatore forte da rinnovare